E che posso dire senza spoilerare? Vabbè, tra amici. Allora, sicuramente il mio personaggio in questa quarta stagione inizia a ragionare con la propria testa e non si fa trasportare. E poi veramente non riesco a dire due parole perché è la prima volta che mi trovo su questa sedia con un microfono in mano e sono emozionatissima. L'emozione è giusta. Grazie a tutti.